Buongiorno, siamo della Voltec. Qualunque cosa venda non mi interessa. Non si preoccupi, signore. Non si preoccupi. Non vendo nulla. Non oggi. Wei non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Sono giorni che ci provo. Si tratta di una questione della massima urgenza, gliela assicuro. Forse sono io a non volerle parlare. Oh, davvero? Ora, io so che è un uomo impegnato e quindi non le ruberò molto tempo. Il tempo è una... una merce preziosa. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Volt locale. Il Volt 111. Se ne vada. Ci vorrà un minuto. Dobbiamo verificare alcune informazioni, per assicurarci che siete autorizzati all'accesso in caso di... ehm... annientamento atomico imprevisto. Torni un'altra volta. Dai, tesoro. È solo un po' di burocrazia. Accontentalo e facciamola finita. Ho detto di no. E io dico di sì, quindi... Splendido, splendido. Ora vediamo. Magnifico! È tutto! Ah, grazie ancora. Ehi, è una sicurezza in più. Varrà pure qualche scartoffia, no? Per te, Sean, non esiste prezzo troppo alto. Ottima risposta. Ho i miei momenti.